Buongiorno, ciao! Realizzo questo contenuto per provare a spiegare un teorema che succede a quasi tutti i cantanti e praticamente alla totalità degli allievi di canto che non sono molto consapevoli di come funziona lo strumento voce. Qual è questo teorema? Quando un cantante, quando un allievo di canto, quando qualcuno che canta sotto la doccia fa un vocalizzo, fa una canzone, fa una frase, dice una parola, realizza un acuto, fa qualcosa di wow, che meraviglia, ecco il teorema, nell'istante dopo che prova a rifarlo, al 99,99% non viene. Questo è un teorema. Perché accade questo? Perché nel momento stesso che il cantante o l'allievo di canto, insomma colui che sta producendo un suono, dopo averlo fatto spontaneamente, si dice adesso lo rifaccio, te lo metto per iscritto e te lo firmo e te lo timbro, al 99,99% periodico, per cento non viene. Non viene bene quanto quello precedente. Perché accade tutto questo? Io mi presento, mi chiamo Andrea Tosoni e aiuto i cantanti a eliminare la fatica dal loro canto, perché il loro canto possa essere soddisfacente e autentico. Quindi questa è la mia professione. Quindi questo è quello che io ti sto proponendo. Non ti posso dire che è scritto, è così, ma a livello esperienziale, mio, didattico, oltre che di cantante, sono più di vent'anni che sono in questo ramo, non mi è mai capitato, se non allo 0,00000001% che qualcuno dicesse bene, ho fatto wow, ora lo rifaccio, non mi è mai capitato che in quel ora lo rifaccio funzionasse altrettanto bene quanto prima, se non meglio. Perché? Che cosa capita? Come siamo fatti? Tutto ciò che è corpo, tutto ciò che è canto, tutto ciò che è voce, almeno per quanto riguarda la didattica voce senza, ha una parte volontaria e una parte involontaria. ha una parte che io posso controllare con il mio ego di cantante e una parte che non potrò mai controllare e per fortuna mi rimane spontanea, se no che barba un canto controllato. Quella è una produzione di suono. Lasciamo stare l'autotune, lasciamo stare tutte le porcherie che negli ultimi anni purtroppo stiamo subendo, ma il canto, almeno ripeto, per quanto riguarda la didattica voce senza, per fortuna ha una componente spontanea che è un valore straordinario e inestimabile che va non solo salvaguardato, ma aiutato a manifestarsi. Qual è il problemino che scatta? Che quando io cerco di fare qualcosa in quella direzione, quel qualcosa che potrebbe uscire spontaneo, si chiude, si blocca, si strozza. Ecco perché io sono in doccia, faccio un meraviglioso acuto, esco dalla doccia e non viene più uguale. Oppure io sono lì che faccio i mestieri di casa, esce una meravigliosa frase, wow che meraviglia, ora la registro, la faccio sentire Andrea, al mio fratello, la faccio sentire e non esce più uguale. Io sono a lezioni di canto, faccio il mio vocalizzo, ho l'insegnante di fronte che ti dice bravo, bravissimo, tanti miei allievi infatti mi dicono Andrea, non dirmi bravo perché se mi dici bravo poi lo sbaglio, ormai il teorema lo conoscono, è che quando tu sei dall'altra parte del pianoforte, con l'allievo di fronte o oggi ormai prevalentemente online, purtroppo, torneremo presto, mi auguro alle lezioni di presenza, è l'allievo nel cercare di rifare meglio quello che ha fatto prima, se non di rifarlo uguale, perde qualcosa, gli si chiude qualcosa, perché, ripeto, almeno per quanto riguarda, non voglio dire che sia oggettivamente così, per come io insegno, per quello che ho sentito non solo da cantante ma da didatta, il corpo, la voce, ha qualcosa che possiamo controllare, ma un infinito di cose che non possiamo, per fortuna, controllare. Si dice che la parte conscia sia solo il 5% di questa meraviglia che è la mente umana, quello che noi possiamo portare a coscienza, per non parlare della coscienza con la C maiuscola, ma qui si aprirebbe un altro nuovo capitolo e non è questo il momento di parlarne. Che cosa sto provando a spiegarti oggi? Che se io, quando canto una bella canzone, o quando faccio una bella frase, o quando becco un acuto, per fortuna, cioè per un colpo di fortuna, non è fortuna, è che in quel momento lì la mia mente è impegnata a fare altro, magari sto lavando i piatti, magari sto passando l'aspirapolvere, magari mi sto sciacquando, o come potrebbe ironializzare qualcuno, mi sto togliendo lo shampoo dai capelli, sto facendo qualcos'altro a livello mentale, sono sovra pensiero, sono più su, sono oltre il mio pensiero e il condizionamento che generalmente il mio pensiero fa su di me e quel qualcosa esce meravigliosamente parlando o cantando. Perché? Perché quando io sono sovra pensiero, quando il mio pensiero non è condizionante oltre una certa soglia, io permetto a tutta l'altra mia metà, ma che abbiamo detto prima, essere molto più di metà, di manifestarsi. Quando io invece esco dal box doccia o io mi metto davanti al play rack del mio registratore, una volta si usava a schiacciare i tasti, oggi va tutto in automatico, quasi con un comando vocale, attacco al rack? Che cosa? Quale parte di me sta cantando in quel momento? Prevalentemente quella che io posso controllare, che se è quella governata da quel 5%, renditi conto che è veramente minima. Quindi nella didattica voce senza, ma mi auguro anche in altre didattiche, non voglio dire che solo la didattica voce senza lavora in questo senso, ma io parlo di quello che conosco, nella didattica voce senza si osserva la parte spontanea che agisce e si cerca di lavorare sulla parte volontaria senza andare a rompere le scatole a quella lì. Ecco che allora quando io esco dal mio box doccia o quando io schiaccio il play rack, non ho più qualcosa che mi strozza, perché ho portato a consapevolezza e a coscienza, l'ho conosciuta, l'ho fatta mia, quella parte che se no rimarrebbe casualmente spontanea. Ecco perché è fondamentale studiare tecnica, perché la tecnica non mi impone un controllo forzato di quel 5% che va a strozzare la mia parte spontanea, e negli anni sono costretto, come si dice nella didattica lirica, a specializzarmi perché a furia di dai e dai e dai e dai a livello muscolare quella parte che poteva manifestare la mia meraviglia, la mia unicità, si è progressivamente contratta. Allora invece che fare questo mi metto su un binario di amore nei confronti del mio suono, o come mi piace dire di flusso d'aria costante, ecco la tecnica di flusso d'aria costante, che mi permette, mentre tengo il controllo su quella piccola parte egoica, mentale, muscolare, tiro a riteno idea, o di sostegno, ovo di voce di petto, tanti modi per chiamare la stessa roba, e mentre tengo questa osservo che cosa accade in tutta la meraviglia della spontaneità del mio suono. Fatta tutta questa introduzione quindi, che cosa puoi fare tu quando stai facendo un vocalizzo e sappi che se provi, dopo averlo fatto wow, a rifarlo verrà male, questo è il teorema. Cosa puoi fare tu nel momento stesso che hai fatto un vocalizzo bene, o sei uscito dal box doccia dopo aver fatto un bel acuto, o qualcosa di wow ti è uscito, fai il possibile per non entrare nel meccanismo del wow lo rifaccio, perché sappi, questo è il teorema, che se cerchi di rifarlo non verrà mai, non solo non verrà bene come prima, ma addirittura verrà male. Quindi il tuo lavoro è di rimanere consapevole, di rimanere in osservazione, anche quando sei sotto il box doccia che ti lavi perché sei sovra pensiero, non essere così distratto che non ti accorgi di quello che accade. Tieni sempre un piccolissimo punto di osservazione. Mentre la voce va, che sei lì che stai cantando, osserva bene che cosa sta accadendo quando non sei sotto il controllo mentale. La voce fa qualcosa che generalmente quando c'è il controllo non fa. Ecco perché poi sei costretto a produrre il suono, a spingere il suono, a fare fatica, perché non permette questo meccanismo qui. Quindi, scusa per il quindi, ma serve a me per tornare perché avrei tantissime parentesi da aprire, tante cose da condividerti, ma devo rimanere concentrato, vedi il puntino, devo rimanere concentrato per non perdere il filo del discorso. Quando accade qualcosa di wow, di a te stesso, adesso mantengo lo stesso stato, magari un po' più esaltato, eccitato, perché c'è qualcosa di wow che avevo prima del wow, che non sarà lo stesso stato realmente, perché saranno due momenti di tempo differenti. Perché prima erano le 14 e 59, ora sono le 15. Ok? Quindi a livello di tempo, anche se sembra che sia lo stesso momento, sono due momenti di presente differenti. Lo dico sempre, anche se sembra che nulla cambi, in realtà tutto cambia. Non è che i capelli mi sono caduti dalla sera, dalla sera alla mattina. C'era già tutto un processo in corso, tale per cui si è manifestato, si è manifestato quel risultato lì. Quindi quando io sto producendo un suono in maniera corretta, non è che è uscito a caso. C'è stato, c'era uno stato in divenire. Idem dopo, anche se sono momenti temporali differenti, io cerco di rimettermi nella stessa condizione, attenzione, questo è l'unico modo per risolvere il teorema, l'unico modo per risolvere il teorema che ti dice che, se cerchi di rifare, sbagli sicuramente, è la non aspettativa. Quindi io mi devo mettere in una condizione senza aspettativa, non mi devo aspettare che venga bene quanto prima. Mi devo semplicemente mettere nella condizione di non aspettativa, dove realizzo quello che sto realizzando. Cioè mi sto lavando, continuo a lavarmi, esco dalla doccia mentre canto. Non è che adesso perché sono uscito dalla doccia, tutto bello, asciugato e pronto a registrare, allora cambio mindset. Mi rimetto esattamente, posto e ripeto che si possa, visto che sono due momenti temporali differenti, in uno stato, se non uguale, simile di non aspettativa, che avevo prima, in maniera tale che tutta la spontaneità della voce si possa manifestare. Questo se non hai consapevolezza tecnica, questo se, come prima è successo a caso, vuoi vedere se di nuovo a caso torna a succedere, che ti sia magari di spunto e di stimolo per iniziare un percorso tecnico, che farà in modo che indipendentemente dal tuo stato, tu ti trovi su un binario nel quale la parte del controllo, la parte egoica, non vada a rompere le scatole alla parte spontanea. Per concludere, è come se la parte egoica, che generalmente sostiene e spinge e fa, nel momento stesso che io sono su un binario fisiologico del mio strumento vocale, manifesto tutta quella spontaneità e quell'apertura nella quale la parte egoica, che se non ci fosse questa spingerebbe come una pazza facendo una fatica micidiale, la parte egoica mentale, muscolare, troverebbe finalmente lo spazio giusto, fisiologico, spontaneo, naturale, godurioso, nel quale potersi completamente, autenticamente esprimere, senza fatica e con totalità. Grazie, buon lavoro, ciao ciao!